Parliamo di thingy, 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 a thingy, a thingy, 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 che cos'è una thingy? Ragazzi quando non vi ricordate il nome di qualcosa, ho letto anche su internet che si usa per le persone quindi per qualcuno ma io non l'ho mai usato, di solito per qualcosa non vi ricordate il nome di qualcosa di thingy, ok? Deriva da thing, cosa, quindi passami quella roba, quella cosa lì, dai, quella robetta lì, quella cosetta, ok? Mi puoi per favore passare quella roba lì, quella cosetta, dai non mi viene il nome, quella roba lì, ok? Ripeto, ho letto su internet adesso che si può usare anche le persone quindi tipo ask thingy there, he will know, quindi chiedi a lui, chiedi a coso là, lui lo saprà, ask thingy. Però sinceramente ragazzi eviterei di usarlo per le persone, certo tra gli amici come al solito va tutto bene, si può usare, non lo so, non l'ho mai usato tra le persone, l'ho sempre usato per le cose, no? Una thingy, una cosa. I found this strange looking thingy out in the backyard, what is it? Ho trovato questa cosa, questa roba strana nel backyard, nel giardino di dietro, ok? E che cos'è? What is it? Ma se è il pelarello verde c'ho? Ma guardati dove l'era finito il pelarello verde! Ma guardati dove l'era finito il pelarello verde!